Buongiorno e benvenuti da Borsali Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi vorrei affrontare insieme a voi un tema che riguarda la scala delle chitarre e dei bassi, degli strumenti a corde in generale, scala o diapason. Che cos'è? Come si misura? Quali sono le misure più diffuse? Come questa misura incide sulla suonabilità di uno strumento? Cercheremo di vedere anche un pochino che cos'è la compensazione, che è un tema legato a quest'altro del diapason, della scala e poi soprattutto cercheremo di capire come la scala o il diapason di una chitarra o di un basso incidono sul suono del nostro strumento. Prima di iniziare ovviamente come tutte le volte vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube cliccando sull'icona qui in basso a mettere un mi piace ai nostri video e a condividerli il più possibile. Allora la prima domanda è che cos'è il diapason o la scala di una chitarra? È la distanza tra il ponte e il capotasto, quindi la distanza sostanzialmente della parte vibrante della corda. In maniera un pochino più precisa per convenzione si misura al micantino e si misura la distanza che c'è tra il centro del capotasto al micantino e il dodicesimo tasto e si moltiplica per due. A questa misura generica dobbiamo aggiungere lo scarto della compensazione. La compensazione è la leggera variazione di lunghezza del diapason che si ottiene spostando avanti o indietro le sellette che ci sono al ponte oppure nel caso delle chitarre acustiche diciamo sagomando il ponte in una maniera in che si possa ottenere compensazione. Il tema della compensazione è un tema particolarmente complicato, dedicherò un video apposta a questa cosa. Questa misura è una misura in realtà molto importante che spesso si sottovaluta nella scelta di uno strumento ma che comporta tantissime piccole varianti che ci consentono di avere più o meno coscienza nella scelta del nostro strumento musicale. Quando parliamo di chitarra a scala corta in genere molti di noi pensano immediatamente alla Gibson che ha una scala generica di 629 mm. Cercherò di parlare in millimetri anche se spesso questi dati dalle case vengono dati in pollici. Oppure parliamo di chitarre a scala lunga quando parliamo di chitarre di genere strato caster, strato diapason da 648 mm. C'è una notevole differenza 6 e 29, 6 e 48. La distanza in questo caso è maggiore, in questo caso è minore. Giusto per avere un po' di così qualche esempio, vi dico che chitarre come Jaguar e Mustang hanno un diapason cortissimo da 610 mm. Le Poll Redsmith sono chitarre pensate e progettate con un diapason intermedio tra quelli di le spolle e strato caster, quindi un diapason che si aggira intorno ai 635 mm. E parliamo anche di bassi. Il basso Jaguar da 7,24 mm o per esempio mi viene in mente il Gibson, le V1 o le SG, basso tipo SG con un diapason da 775 mm, mentre il Jazz Bass e il Precision Bass hanno diapason particolarmente lunghi da 864 mm. Beh, allora abbiamo parlato di numeri, di misure, ma ci domanderemo certamente ma cosa vuol dire questa cosa? Come incide sulla suonabilità di uno strumento? Perché questo numero, questo dato è così importante per valutare come ci troviamo su una chitarra, su un basso? Beh, diciamo che la prima conseguenza della misura del diapason è che ad un diapason più lungo corrisponde una maggior distanza tra i tasti, quindi i tasti si posano sulla tastiera in funzione di questa distanza, di questa misura, appunto della scala o del diapason della chitarra. Diapason più lungo, i tasti saranno più lontani tra di loro, diapason più corto, i tasti saranno più ravvicinati tra di loro. Ovviamente questo andrà a incidere sull'estensione che dobbiamo utilizzare con la nostra mano sinistra, se siamo destrorsi o destra, se siamo mancini, nella posizione degli accordi e nelle posizioni sul nostro strumento. Il secondo fattore da tenere in considerazione quando parliamo di scala della chitarra è sicuramente legato alla tensione delle corde. Per ragioni di natura fisica ad un diapason più lungo, quindi pensiamo a chitarre di tipo stratocaster, ad esempio, corrisponde una tensione maggiore delle corde, mentre ad un diapason più corto corrisponde una minor tensione delle corde. Attenzione, molto spesso mi viene detto ma caspita io ho una Gibson le spolpe, però è durissima, è molto difficile da suonare. Sto parlando di condizioni ottimali, quindi sto parlando di chitarre perfettamente settate, di bassi perfettamente settati, in cui è possibile avere una misura corretta e coerente di questo parametro. Quindi proviamo a riassumere questo concetto, lo so che è un pochino complicato, però possiamo dire che appunto ad una distanza maggiore della parte vibrante della corda, a parità di materiale della corda, di intonazione e anche di marca e calibro della corda che montiamo, avremo maggiore tensione di una distanza minore. E parliamo per esempio di y-s-ball. Ad una scala più lunga ci viene immediatamente in mente il fatto che avendo appunto un diapason più lungo la tensione delle corde è maggiore e questo incide moltissimo anche sull'intonazione dello strumento. Provate a pensare a un elastico estremamente teso, appena lo sfiorate cambia l'intonazione, uguale una corda nella sua parte appunto libera di vibrare, di suonare. Se noi abbiamo un diapason lungo la chitarra sarà più sensibile a quando noi andiamo a premere sul tasto per ottenere una nota. Quindi ci sarà maggior sensibilità al cambio di intonazione dello strumento. Bene, all'inizio ci eravamo anche posti un'altra domanda ossia come questa misura il diapason incide sul timbro, sul suono di uno strumento? Beh, in generale possiamo dire che ad un diapason più lungo, quindi ad una tensione maggiore della parte di corda vibrante possiamo associare un timbro, un suono del nostro strumento in generale un pochino più chiaro e squillante, mentre ad un diapason più corto, quindi ad una sezione di corda vibrante più breve, possiamo associare un suono in generale un pochino più scuro, più cupo. Un altro elemento su cui il diapason incide è il sustain, ossia la durata della vibrazione di una corda. Quindi possiamo dire che più il diapason è lungo maggiore sarà il sustain, mentre più il diapason sarà corto, come nel caso di una Gibson Les Paul, minore sarà il sustain. È comunque fondamentale ricordare che sustain e timbro sono prevalentemente influenzati da tantissimi altri fattori, come per esempio il materiale impiegato per la costruzione del manico e del corpo della chitarra, oppure lo spessore stesso del manico, la sua rigidità, tipologia e posizione dei pick up che influiscono sulla vibrazione della corda tramite i magneti, oppure ad esempio la rigidità della paletta, la presenza o meno di una voluta. Insomma ci sono tanti elementi che determinano sustain e timbro di uno strumento. Il diapason, la scala più uno strumento, concorre a questa cosa ma non è assolutamente l'unico elemento che lo determina. Magari in qualche situazione vi è capitato di entrare in un negozio oppure vedere un video in cui avete visto uno strumento come questo che sto prendendo adesso. Si tratta di un basso cort, cinque corde, con tasti fan fret, si dice, ossia posizionati a ventaglio. Ebbene questo è uno dei sistemi, ossia strumento A di apason o scala variabile, è uno dei sistemi che si sono cercati di applicare agli strumenti per cercare di correggere il più possibile i problemi legati all'intonazione, tensione e compensazione delle corde degli strumenti appunto tipo chitarre o bassi. Questo è semplicemente un esempio che vi faccio per dirvi esistono anche cose di questo genere. In realtà, se voi ci pensate, anche una chitarra tradizionale, una stratocaster o una Gibson o una chitarra acustica, è uno strumento a diapason o scala variabile, poiché appunto proprio tramite la compensazione che troviamo sul ponte ogni corda ha un diapason leggermente diverso da quello nominale. Ebbene in questo caso la cosa è esasperata appunto per cercare di sopperire a problemi soprattutto legati all'intonazione della tensione delle corde. Bene, oggi abbiamo affrontato un tema particolarmente tecnico e molto specifico. Ho cercato di spiegarvelo in termini più semplici possibili. So che non sono cose facili e immediatamente comprensibili. Io spero in ogni modo di essere stato il più caro possibile. Se ci sono dubbi, ovviamente domande, ce lo potete scrivere nei commenti. Con questo è tutto. Vi mando un caro saluto e alla prossima. Grazie.